Ciao a tutti su Nobom777 e benvenuti in questo primo episodio della carriera allenatore in FIFA 15 In realtà non è neanche veramente il primo episodio, però vabbè Vi avevo chiesto se voi avreste voluto vedere la carriera allenatore oppure la road 2 di Vision 1 Alla fine le preferenze sono state del circa 50% a testa, quindi una parità incredibile E ho deciso che le farò a tutte e due Quindi vedrete sia la road 2 di Vision 1 che la carriera allenatore Però questo video io più che altro l'ho fatto per farvi una domanda E la domanda è che squadra volete che io usi nella mia carriera allenatore? Intanto qua vado a mettere carriera allenatore, mi faccio un po' vedere Io ero partito pensando di usare qualcosa in Inghilterra Visto che quest'anno la Premier è davvero una figata con tutti gli stadi, tra licenze, tutte queste cose qua Veramente bellissime, intanto non la trovo Ok, ecco qua, Inghilterra Volevo comunque rimanere su una squadra di Premier, non lo so Comunque potete anche consigliarmi altre, anche altri campionati, mi va benissimo Io stavo pensando all'Everton Perché mi sembra un'ottima squadra per farci una carriera Poi tanti giocatori da crescere e tanto altro Quindi l'Everton mi piacerebbe usarlo Alta roba! Sì, ci sono anche tante altre squadre Saltampton, Tottenham, Sunderland Sì, queste qua Non Manchester United, non Manchester City Troppi soldi, troppo tutto Che poi l'Everton ha anche il To Qua non c'è scritto, però c'è il To Anche la Bundesliga, dire la verità, non sarebbe male Però volevo rimanere in Inghilterra Perché quest'anno proprio voglio fare l'Inghilterra E quindi per questo video dovrebbe essere tutto È stato un video velocissimo Più che altro volevo solo farvi questa domanda La Spagna invece No, no, Liga delante La Spagna Non lo so, non mi convince Poi io lo faccio sempre io in Spagna Mentre gioco da solo Quindi no, vorrei cambiare quest'anno Ma comunque io vi ripeto Consigliatemi voi delle squadre Possono anche essere altri campionati Poi io vedrò Ho solo detto che avrei una preferenza in Premier League A fare la Premier League A fare una precedenza Una precedenza Una preferenza E avrei anche la preferenza Alla squadra che sarebbe l'Everton E poi l'ultimissima cosa In questa serie Ci entrerete tantissimo tutti quanti voi Tutti quanti i vostri consigli Perché praticamente sarete voi A scegliere i giocatori che comprerò Tutte le azioni che dovrò fare Eccetera eccetera E quindi Se il video ti è piaciuto Metti mi piace Iscriviti al mio canale E commenta Commenta possibilmente Scrivendo una squadra Che tu vorresti vedere Per questa serie Io prenderò in considerazione Tutti i commenti Li leggerò a tutti Come sempre E vedrò Quale squadra fare Tra quelle che mi avete commentato voi E da BOM777 è tutto Ciao a tutti